La Vibonesa non morde, il Siracusa ringrazia e strappa via da Luigi Razza l'intera posta in palio. Come il Rende, due settimane fa, anche gli R2-6 violano lo stadio rosso-blu. È la seconda volta consecutiva in due partite interne in questo girone di ritorno. I di Maria Bois sembrano la brutta copia della formazione ammirata a Marsala. A complicare le cose, il gol ha subito a freddo realizzato da Nicola Arena, ex reggio, reattivo nell'approfittare degli spazi lasciati dalla retroguardia di casa. Un gol che estordisce la Vibonesa praticamente mai in partita. Troppo poco robusta in avanti, saranita in panchina, allegretti da solo, può fare veramente poco contro la difesa siracusana. Gli ospiti concedono solo qualche punizione dal limite e sul finire della prima frazione, Crucitti va vicino al bersaglio grosso spaventando i siculi. È solo un abbaglio, perché nella ripresa la colonna sonora del match intona sempre note siciliane. Il Siracusa amministra il vantaggio, la Vibonesa ci prova a spaccare il muro eretto dagli ospiti, i palloni in porta arrivano, ma d'Alessandro fa buona guardia. E da quelle parti non passa neppure uno spillo. E quando Manzo lascia in dieci il rosso-blu, il match è praticamente chiuso. De Zai cala il bis al ventesimo e nel finale Catania cala anche il tris. Risultato un po' troppo rotondo, forse, ma vittoria mai in discussione.